Nella sede della Fondazione Banco di Napoli, in via dei Tribunali, tavola rotonda della Fondazione Mezzogiorno Europa Onlus dal titolo Coesione Territoriale in Reti. Le conclusioni sono state affidate al Ministro per la Coesione Territoriale, Carlo Triglia. Bisogna anzitutto riuscire a invertire la situazione di grave sofferenza nella quale si trova il Sud in un Paese che soffre. Quindi dobbiamo utilizzare tutti gli strumenti disponibili, in particolare i fondi europei, per cercare di invertire la recessione in atto e di incontrare il momento di ripresa che dovrebbe avvenire all'inizio dell'anno prossimo. Poi bisognerà intervenire con delle cure più approfondite e più in profondità, diciamo, che devono risolvere alcuni problemi strutturali che ci trasciniamo da troppo tempo. Lo stesso Triglia ha affermato che si sta intervenendo e lavorando per evitare che una parte dei fondi europei della programmazione 2007-2013, vale a dire circa 5-10 miliardi di euro, possano andare persa. Non possiamo permetterci, ha detto il Ministro, di perdere un solo euro perché questi fondi possono essere riutilizzati in un modo che aiutino a uscire dalla grave recessione nella quale si trova l'economia e in particolare quella meridionale. Uno spaccato che ascoltiamo nelle parole del Ministro. Certamente è una parte importante sulla quale stiamo intervenendo, stiamo lavorando per evitare che questi fondi possano andare perduti e anche e soprattutto per riutilizzarli in un modo che aiuti a uscire dalla grave recessione nella quale si trova l'economia meridionale.